Amo Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta da le donne e benedetta il frutto del coseno di Dazzù. Amo Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta da le donne e benedetta il frutto del coseno di Dazzù. Amo Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta da le donne e benedetta il frutto del coseno di Dazzù. Amo Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta da le donne e benedetta il frutto del coseno di Dazzù. Amo Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta da le donne e benedetta il frutto del coseno di Dazzù. Amo Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta da le donne e benedetta il frutto del coseno di Dazzù. Amo Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta da le donne e benedetta il frutto del coseno di Dazzù. Amo Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta da le donne e benedetta il frutto del coseno di Dazzù. Amo Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta da le donne e benedetta il frutto del coseno di Dazzù. A te ricordiamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocato nostra, rivolge a noi gli altri tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù. Primo mistero gaudioso, l'annunciazione, l'Arcangelo Gabriele riscende su Maria e dice di essere stata concepita senza peccato e per opera dello Spirito Santo. A te, Nostre, che sinceri, Santi di Centro, noventù, a te ne ha tutte le untù, che ha voluto scoprire il cielo di terra. Danci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri capitoni. E non sicura in tentazione, ma liberati dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei a vedere tra le donne e vedete il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, ave Maria, prego il tuo nome, spettatore. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei a vedere tra le donne e vedete il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, prego il tuo nome, spettatore. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei a vedere tra le donne e vedete il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, prego il tuo nome, spettatore. Ave Maria, prego il tuo nome, spettatore. Tu sei a vedere tra le donne e vedete il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, моя di Dio, venga per noi, spettatore. Adesso è con te. Tu sei a vedere tra le donne и vedete il frutto del tuo seno Gesù. Venga per noi, spettatore. Adesso è con te. Tu sei a vedere tra le donne e vedete il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, prego iisp��者. Tu sei a vedere tra le donne e vedete il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Padre di Dio, prego e peccato, adesso è l'ora della nostra morte. Ave, ave Maria, ave Maria, ave. O Gesù unico per colare le nostre cose, per fermarci la scuola dell'inferno, forza il cielo tutto e l'anime, specialmente le più bisognose a sua misericordia, e colarci i santi sacerdoti. Secondo mistero d'audioso, la visita della Maria Vergine a sua cugina Santa Elisabetta, che porta il membro San Giovanni Battista. Fate al nostro efei sinceri, santificetto noventù, avveni a tregnum tu, mia volontà stua, e vincenati in terra. Facci oggi il nostro Padre Politeano, rivecchiamo i nostri debiti come noi rivecchiamo i nostri debiti oggi, e non ci dure che è il Signore, ma rivecci per male, amore. Ave Maria, prego e ringrazio il Signore con te, il Signore con te, e il Signore con me ronde, vedece tutto il tuo seno a Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccato, Ave Maria, prego e ringrazio il Signore con te. Ave Maria, prego e ringrazio il Signore con te. Ave Maria, prego e ringrazio il Signore con te. Ave Maria, prego e ringrazio il Signore con te. Ave Maria, prego e ringrazio il Signore con te. Ave Maria, prego e ringrazio il Signore con te. Ave Maria, prego e ringrazio il Signore con te. Ave Maria, prego e ringrazio il Signore con te. Ave Maria, prego e ringrazio il Signore con te. Ave Maria, prego e ringrazio il Signore con te. vado l il Signore è con te, tu sei benedetta, va i donna e benedetta, è tutto nel tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, Madre di Dio, grazie, Signore, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, Madre di Dio, Signore, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, Maria, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, Amen. Ave, 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 ave e donoci stanti sacerdoti, terzo mistero caudioso, la nascita di nostro Signore Gesù Cristo.